C'è anche il centrocampista Quilotto Albin Ekdal, tra i calciatori della nazionale svedese coinvolti loro malgrado nella tragica serata di Bruxelles dove un sedicente terrorista islamico ha ferito mortalmente a colpi di Kalashnikov due tifosi scandinavi e rimanendo a suo volto ucciso dopo una caccia all'uomo durata tutta la notte. I due tifosi svedesi stavano recandosi allo stadio Re Baldovino per assistere alla partita con il Belgio quando sono caduti sotto il fuoco dell'attentatore. Appena diffusa la notizia la gara è stata interrotta alla fine del primo tempo con i calciatori che hanno immediatamente fatto ritorni in Svezia lasciando allo stadio anche gli effetti personali. I 400 tifosi della Svezia sono stati fatti restare dentro l'impianto di gioco considerato luogo sicuro per poi essere scortati intorno alle 4 del mattino verso i rispettivi alberghi che erano presidiati dalle forze dell'ordine. La nazionale svedese è invece rimasta dentro lo stadio fino a mezzanotte e successivamente condotta sotto scorta fino all'aeroporto dove ad attenderla c'era un volo in partenza per Stoccolma. Una volta che saranno recuperati anche gli effetti personali i calciatori tra cui lo spezzino Ekdal potranno riaccasarsi ai rispettivi club. Sulla vicenda la federazione calcio svedese non ha rilasciato dichiarazioni invitando i propri tesserati a fare altrettanto.